Ciao 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 a tutti da Svideu Allora oggi è il compleanno È il compleanno di Stefan Del canale SM Canal Bell E quindi Niente, volevo fargli Tantissimi, tantissimi auguri Stefan auguri Di cuore, veramente Festeggia bene Divertiti E spero che tu ricevi anche Tanti bei regalini Vi faccio un sacco e sacco di auguri Ma questo gioco si può sparare? No, non c'è il gioco Non c'è da sparare Action camera Buttons, giro No, cosa? Comunque Ti ho rispettato a queste macchine In questa arena E veramente E davvero Auguri, auguri, auguri Auguroni 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 Feste già bene Buon compleanno Stefan Anche se questo è un video Molto molto semplice Sì, sono ancora Ah, sì, sì Stavo cercando di capire Se era ancora Ah È un video molto semplice Ma, beh, amico mio Io spero che il vostro canale Tuo insieme a Marchio Vada sempre meglio E poi comunque Al di là del canale YouTube Io spero che Insomma la tua vita Crucita sempre Nel migliore dei modi Quindi Ti auguro tanta felicità Tanta salute Che è una cosa importante Aiuto Sono fuori Mi rimetto in gioco così Ok Ah Oh, oh, oh Ormai questa macchinina La vedo un po' male Aia Davvero Stefan Auguroni 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 Ehm Ho perso Vabbè, vabbè Comunque L'importante era Fargli tanti auguri Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri Stefan Tanti auguri a te Grande bro Ciao